Allora Gabriele, che effetto fa vincere in casa e essere premiato da Fabio Scozzoli? Vincere in casa è bello, soprattutto perché è un po' brutto dirlo, ma sono uno che qualche volta con gli avversari di fianco fa fatica. Sto imparando fino a fino a migliorarmi. Poi essere premiato da Fabio Scozzoli e ho avuto la fortuna di essere qualche volta sul podio con lui. È un onore enorme, ha fatto delle cose incredibili per il mondo del nuoto italiano, ma penso anche internazionale, quindi è davvero un gran esempio. Come si colloca questo trofeo all'interno della tua preparazione? Allora è un trofeo per cui abbiamo gli ultimi tre giorni di avvicinamento alleggerito leggermente abbiamo deciso che sarà un test pre-assoluti, probabilmente anche con Swimmy ma non ne siamo ancora certi e ovviamente è tutto in vista di marzo, degli assoluti di marzo, dove si spera di spingere. E allora buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie mille, gentilissimo. Ciao.